Pubblica amministrazione lucana sotto attacco degli hackers di Anonymous. Nelle scorse ore il gruppo informatico ha messo a segno una serie di attacchi denominati Operation Green Rights. Obiettivo la regione Basilicata ed altri enti nell'ambito di una campagna di protesta contro le trivellazioni petrolifere in Valdagri. Gli attivisti hanno rivendicato sul sito di riferimento e via Twitter l'azione che ha portato a bucare gli archivi online della Giunta e del Consiglio regionale, oltre all'azienda di promozione turistica e comuni della zona interessata dalla produzione di greggio e zone limitrofe, ad esempio login e password dei siti istituzionali di Pietrapertosa, Missanello, San Martino d'Agri o Novasiri ed ancora pubblicati centinaia di record riportanti le generalità, chiavi d'accesso e indirizzi e-mail riferiti agli uffici di Viale Verrastro, in più l'elenco con dati sensibili di 198 aziende lucane. Atto è emerso contro lo scempio, disastro e catombe, tutto firmato dall'italiana Eni con l'intento di rendere note le persone che hanno avuto e che hanno tuttora un ruolo in questa situazione definita disgustosa. Accusa pesante, accompagnata dallo sconcerto su dove si è affinito l'orgoglio di una Basilicata che anni fa tutta si mobilitò contro il sito unico di scorie nucleari a Scanzano. Dalla regione, in una nota ufficiale spiegato come l'accesso non autorizzato, si è andato su applicazioni in parte già dismesse e in parte in corso di dismissione e sostituzione nell'ambito di un piano di verifica dell'integrità e sicurezza. Attacchi simili vengono monitorati giornalmente in collaborazione con il centro tecnico regionale. Intanto contattati utenti e amministratori dei vari sistemi vittime dell'attacco è inviata segnalazione agli organi competenti ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati.